benvenuti in questo tutorial di studio vediamo come procedere all'attivazione della licenza se vediamo qui in basso la licenza risulta ancora in versione demo questo limita quelle che sono determinate stampe e funzionalità ovviamente qui vedete il calendario mi sta segnalando quello che ci sono degli appuntamenti elimina tutti ok procediamo quindi a fare l'attivazione della licenza l'attivazione andiamo sul menu in alto a sinistro clicchiamo su informazioni andiamo su attiva licenza selezioniamo il seriale attiva licenza questo mi dà la possibilità di attivare correttamente ok e mi chiede di riavviare l'applicazione quindi si chiuderà andiamo di nuovo su studio e apriamo la nostra il nostro software quindi potremo vedere poi in basso a sinistra che la nostra licenza è stata correttamente attivata e quindi tutte le funzioni sono state abilitate doppio clic ad esempio sulla fatturazione facciamo anteprima dovremmo vedere tranquillamente quella che la stampa cosa che vedremo vedevamo prima in demo senza nessun dato di riferimento eccolo qui sono tutti riportati tutti i documenti e le stampe a 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